Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche. Quindi, come vedete sulla mappa, sono previste grandi quantità di pioggia e neve in tutte le regioni d'Italia da nord a sud, a partire da domenica 31 dicembre 2023. Come puoi vedere nella foto davanti a te, tutte le regioni d'Italia sono colorate, il che significa che pioggia e neve cadranno, in tutte le regioni senza eccezione, ma gradualmente e la pioggia e la neve saranno più forti verso le regioni centrali d'Italia e nelle regioni colorate in rosso e, in misura minore, nelle regioni colorate in verde. Attualmente tutti i modelli meteorologici digitali globali indicano un forte ritorno dell'inverno in Italia, a partire dal 31 dicembre fino almeno al 7 gennaio, con una forte ondata di freddo, gelo, neve, pioggia, forti venti e condizioni meteorologiche invernali eccezionali, con il rischio di alluvioni, soprattutto nel centro Italia, a causa delle abbondanti piogge previste nel... in breve tempo e all'improvviso. Pertanto le aspettative sono state in larga misura confermate. Un forte temporale entrerà in Italia a partire dal 31 dicembre. Con pioggia, neve e maggiori dettagli cercheremo di fornirveli in seguito. Infine chiariamo a tutti che si tratta di semplici previsioni basate sulla nostra analisi dei modelli meteorologici globali che possono essere corrette o errate. Se queste previsioni saranno confermate, un temporale molto forte colpirà l'Italia da nord a sud.